Musica Bentrovati alla terza edizione del TG6, apriamo parlando di economia. Sul manufatturiero si registrano timidi segnali di ripresa nei primi tre mesi del 2016. I dati sono stati elaborati dal Cresa e presentati oggi all'Aquila nel corso della quattordicesima giornata dell'economia. Filippo Tronca Segnali di timida ripresa del fatturato della produzione e dell'occupazione nel settore manufatturiero abruzzese. Questo dicono i dati dei primi tre mesi del 2016 elaborati dal Cresa e illustrati oggi all'Aquila nel corso della quattordicesima giornata dell'economia. L'occupazione aumenta, seppure di pochissimo, dallo 0,1 ma in sei mesi arriverà allo 0,6 che equivale a mille posti di lavoro e cresce anche il fatturato, l'export e la produzione tra il 7 e il 9%. Ma ad analizzare i dati nel dettaglio si nota che ad alzare la media è soprattutto il settore metalmeccanico della provincia di Chieti, ovvero gli stabilimenti della seva e le sue potenti indotto. Mentre in provincia di Teramo e quella dell'Aquila c'è ancora una sostanziale stagnazione e l'occupazione in prospettiva è destinata ancora a calare. È il manufatturiero in provincia di Chieti sicuramente, ma è anche il manufatturiero elettronico all'Aquila che va molto forte e poi il sistema dell'agroalimentare che comunque regge e va forte sia nell'export che nel fatturato tendenziale. Comunque il dato importante è che si prevede un aumento di fatturato di tipo tendenziale del 7,2%. Un dato che proprio avevamo dimenticato e che finalmente incominciamo a poter vedere rosa per il futuro di questa regione. Spetta anche alla politica, aggiunge il presidente di Union Camera Lorenzo Santilli, fare la sua parte per aiutare le imprese ad agganciare e far tesoro di questi segnali di ripresa e di questo ritrovato clima di fiducia. Ma noi alla politica le imprese chiedono sempre le stesse cose, quindi non è che cambia, vogliamo innanzitutto meno burocrazia, tempi più veloci per intraprendere, una libertà di impresa maggiore e perché no una riduzione delle pressioni fiscali. Le imprese mi pare che stiano largamente avviando un percorso che è un welfare aziendale per cui credo che il problema se lo stiano ampiamente ponendo. Alcune imprese, alcuni imprenditori italiani stanno sostenendo, iniziano a sostenere un reddito minimo di cittadinanza per rilevare i consumi, quindi io credo che tutto questo è sul tappeto e all'ordine del giorno della discussione, ovviamente non è che sono problemi che si possono affrontare con grande semplicità. Restiamo nell'Aquilano, un nuovo casello a Lucoli, se ne è parlato nel corso di un incontro questa mattina in regione con il presidente D'Alfonso e l'amministratore di Strada dei Parchi per valorizzare una realtà territoriale troppo spesso dimenticata. Vediamo. Un nuovo casello autostradale dell'A24 Roma-L'Aquila più a ovest del capoluogo all'altezza del comune di Lucoli. Chiusura di conseguenza del casello di L'Aquila-Ovest, troppo centrale con conseguenti problemi di traffico in Gorghi. Della proposta se ne è parlato oggi a Palazzo Silone, un incontro tra il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, l'amministratore delegato di Strada dei Parchi Cesare Ramadori, il sindaco di Lucoli Gianluca Marrocchi e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Valuteremo attentamente la fattibilità dell'intervento, si limita ad anticipare Ramadori alla vigilia della riunione operativa. Sì, siamo stati convocati dal presidente della regione per parlare di questa nuova possibilità. perché l'intenzione, da quello che ho capito, del comune di L'Aquila è di chiudere lo svincolo dell'Aquila-Ovest perché è troppo al centro della città. Si tratta di vedere se la soluzione è Lucoli o un'altra soluzione che uscirà fuori oggi discutendo tecnicamente di questa soluzione. La società però è possibilista, vuole vedere bene. Vogliamo solo capire perché non possiamo mettere uno svincolo ogni 3 o 4 chilometri. È un'ottima scelta quella di provvedere ad ingereggere il casello dell'Aquila-Ovest. Questo consentirà di valorizzare la nostra valle e favorire il turismo. In pratica ci consentirà di recuperare i 30 anni perduti di turismo da quando è stata fatta quella scelta sbagliata del casello di Torri in parte. Questo non significa che il casello di Torri in parte verrà chiuso, anzi sarà l'approccio diretto per arrivare nell'altipiano delle rocche e per poter fruire di campo felice. Cambiamo argomento. È tornata a Pescara la salma di Alessandro Angelucci, il giovane ricercatore morto durante un'escursione in Turchia. Per lui è stata disposta una camera ardente presso il Media Museum di Piazza Alessandrini in tanti si sono presentati per rendergli omaggio. Oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di San Cetteo si sono svolti i funerali. Il servizio di Francesca Romana Testi. È arrivato nella giornata di ieri dalla Turchia il feretro di Alessandro Angelucci, il giovane docente universitario morto a causa di una caduta di 50 metri nel corso di un'escursione nel distretto di Carasu. Secondo la ricostruzione le scarpe bagnate dall'attraversamento di un fiume sarebbero state la causa della tragedia. Il manto roccioso sul quale stava camminando Alessandro sarebbe stato fatale. Un giovane ricercatore originario di Lanciano è residente a Pescara che solo lo scorso anno aveva già ottenuto il primo incarico ufficiale all'università con una cattedra al master di prime a un livello di teoria e pratica di teatro e musica di lingue e letterature straniere. L'incidente è avvenuto il 30 maggio e lunga è stata l'attesa dei suoi cari per vederla ancora un'ultima volta. Tutta la città si è stretta intorno alla famiglia di Alessandro e da ieri sera è stata disposta una camera ardente al Media Museum di Pescara dove tantissime persone gli hanno reso omaggio. La cattedrale di San Cetteo è stata la chiesa scelta per la celebrazione dei funerali. Ancora tanto sgomento e incredulità da parte della sua famiglia e dei suoi amici che lo ricordano per la sua dedizione al lavoro, la maturità che lo ha sempre contraddistinto e l'eredità che lascia dolorosamente i suoi cari e quella della sua gloria. La sepoltura verrà ad Ancona dove vive la sorella Giovanna e dove si trasferirà anche la mamma di Alessandro rimasta sola dopo la scomparsa del figlio. E slitta il prossimo 15 novembre la sentenza sulla morte del pensionato di Spoltore Donato Pangiarella, 74 anni, ex dirigente di una squadra di calcio trovato senza vita il 6 settembre 2014 nell'ascensore di un palazzo in via Cerrano a Montesilvano. L'udienza preliminare di oggi è stata infatti rinviata per legittimo impedimento dell'avvocato Simone Rosario Matraxia, difensore di Epi Aigbeni, 34enne nigeriana, accusata di omicidio preterintenzionale per questa vicenda la donna, che sarà giudicata con il rito abbreviato, trascorse quasi sei mesi in carcere. Stando racconto fornito dall'imputata durante le indagini, lei e la 74enne si sarebbero incontrati in un supermercato di Montesilvano dove il pensionato si sarebbe offerto di aiutarla a portare in casa le casse d'acqua. Una volta all'interno, secondo la versione della 34enne, l'anziano avrebbe cercato di avere un rapporto con lei che per difesa si sarebbe divincolata e l'avrebbe spinto. Sull'allontanamento dell'uomo dall'appartamento la donna avrebbe fatto ricorso a versioni diverse, dicendo una volta che il pensionato avrebbe preso l'ascensore da solo e un'altra che sarebbe stato accompagnato. Del caso si sono occupati i carabinieri del nucleo investigativo di Pescara. La vicenda si gioca tutta attorno alle perizie che hanno stabilito che il decesso è avvenuto per una fatale aritmia cardiaca. Nello specifico, secondo l'avvocato di parte civile Alfredo Di Francesco, un alterco sarebbe alla base della morte del pensionato, mentre la difesa sostiene che l'alterazione cardiaca sarebbe stata provocata dallo sforzo a cui si sarebbe sottoposto l'uomo portando le bottiglie d'acqua in casa e all'eccitazione sessuale suscitata dalla presenza della donna. Cambiamo argomento, passiamo alla politica. Dura sconfitta del centrosinistra, appenne tradizionale roccaforte del Partito Democratico. Ha vinto un raggruppamento civico di centrodestra con a capo il medico Mario Semproni, solo terzo dietro il grillino Falconetti, il candidato del centrosinistra, appunto, Enio Napoletano. Freddo Primante. Mario Semproni è il nuovo sindaco di Penne, geriatra dell'ospedale San Massimo, 63 anni. È stato lui a spezzare l'egemonia del centrosinistra che in città andava avanti da un trentennio. Semproni con la sua lista civica Penne Viva ha ottenuto 2746 preferenze, superando solo di una manciata di voti il candidato del Movimento 5 Stelle Luca Falconetti. Insieme agli altri amici ci batteremo per cercare di risolvere i numerosi problemi che affliggono Penne, in particolare il problema della sanità con un ospedale che viene continuamente ridotto e si è arrivati adesso ad un declassamento, con la vertenza Brioni che affligge veramente la nostra città e con numerosi licenziamenti che potrebbero piombare improvvisamente su tantissime persone, cercando di risolvere il problema della viabilità che affligge purtroppo la nostra città. Cercheremo di risolvere anche il problema del turismo che dovrebbe essere lo sbocco naturale della nostra città, cercando di migliorare la condizione del nostro centro storico. In questi cinque anni non staremo certo con le mani in mano, cercheremo ad ogni modo di risolvere le numerose problematiche della città, cercando di migliorarla. La coalizione del Partito Democratico dunque esce con le ossa rotte, solo terzo l'aspirante sindaco del PD Ennio Napoletano, che ha ottenuto 1933 preferenze e il 24,83% dei consensi. Una sconfitta, quella di Penne, che pesa sul centro-sinistra pescarese. Nuova ordinanza di chiusura per il Sanzificio di Pescara. Il sindaco Marco Alessandrini ha bloccato di fatto il provvedimento di autorizzazione firmato dalla provincia. Una nuova ordinanza di chiusura per il Sanzificio di Pescara, firmarla il sindaco Marco Alessandrini, che contesta nuovamente il cattivo odore che pervade la città. Poi c'è un odore davvero pesante nell'aria e il sindaco ha ritenuto di reiterare la stessa ordinanza emanata ad aprile, poi sospesa dal TAR. Credo che quello che è successo nello scorso fine settimana sia oltre questa soglia e dunque abbiamo emanato un provvedimento di sospensione delle attività per la tutela dell'olfatto dei nostri concittadini. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Perché è quest'anno in realtà che si è parlato tanto della difficoltà e soprattutto dell'odore per il Sanzificio. Il Sanzificio è sempre un opificio industriale che lascia tracce del suo operato. Il tema è legato alla produzione della sansa, alla stagionalità in cui esso avviene e a quel fenomeno chimico di combustione che genera un odore non piacevole. L'odore non piacevole supera livelli di tollerabilità e il sindaco ritiene di emanare un'ordinanza per la tutela della salute pubblica. Solo pochi giorni fa la notizia della chiusura, prevista per il 15 giugno a seguito della scadenza del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla provincia. Una sorta di contraddizione che vede i due enti schierarsi su posizioni avverse. La provincia ha emanato un provvedimento di autorizzazione, il Tar ci ha detto di vigilare cosa che peraltro avremmo fatto a prescindere e quindi abbiamo ritenuto di emanare un'ordinanza di sospensione. Sulla situazione dell'ex IPAB di Chieti e sulle iniziative riguardanti la struttura, oggi i consiglieri del Partito Democratico hanno tenuto una conferenza stampa e ancora polemica con la maggioranza che secondo il centro-sinistra appare spaccata. Paolo Renzetti. Febo, si parla del futuro dell'ex IPAB, se ne è discusso ieri in Consiglio Comunale e quali sono le novità? Finalmente dopo tre consigli più volte è stato ritirato dalla maggioranza perché non c'era l'accordo, ormai è evidente la frattura tra Di Primio e Mauro Febbo, ieri l'ha spuntato per quanto riguarda la maggioranza un componente di Mauro Febbo, sono andati allo sconto in Consiglio Comunale. A questo punto dunque cosa succederà? Vedremo nei prossimi giorni in Consiglio come si comporterà la parte vicina al sindaco e quella di Forza Italia, però a noi non è possibile continuare a litigare su argomenti così importanti. L'ente ha bisogno di essere rappresentato sicuramente, questa città sicuramente non ha bisogno di una classe dirigente che pensa soltanto alla scortizione di poltrone con delle lotte intestine che fanno veramente male e sono anche ridicoli in questo momento perché significa ancora appropriarsi di nomine poltrone mentre la città in sofferenza e soprattutto l'ex IPAB, la casa di riposo avrebbe bisogno di una spinta per salvaguardare gli interessi dei lavoratori e soprattutto dei degenti. All'interno della maggioranza c'è una spaccatura enorme, potremmo approfittarne sicuramente per mettere ancora più in difficoltà un sindaco che ormai è alle prese con dei ricatti politici interni che sicuramente lo porteranno alla fine di questa consigliatura. La Pescara è inaugurata ieri mattina a Fonte e Loca, la struttura torna agli antichi fassi dopo la ristrutturazione, costo dell'opera, 350 mila euro. Noi da quando c'era il governo d'Alfonso avevamo individuato questa fontana insieme a tante altre come luoghi di recupero dell'identità della città di Pescara. Per cui anche nel deriodo della nostra opposizione nel piano triennale abbiamo sempre inserito Fonte e Loca ed eravamo anche derisi per questa fontana. Adesso finalmente è una realtà grazie al presidente D'Alfonso, alla sovrintendenza e per la nostra città è significativo il fatto che così si viene a conservare la cifra della nostra identità perché in questo luogo le donne si incontravano, in questo luogo era un luogo di aggregazione ed è soprattutto una fontana estremamente antica appunto dal punto di vista idraulico risale come metodologia alla metodologia usata dai persiani. Poi le tre nicchie a capucina che sono state conservate esprimono forse addirittura un'origine romana ma sicuramente dagli strati ritrovati si parla di 600. Questa è una fonte storica e adduce l'acqua proprio al borgo da circa tre secoli che non era più utilizzata da tanti anni, da prima della guerra se non erro. E quindi restituirla alla comunità anche come memoria storica di quella che è stata la stessa fontana era un dovere della sovrintendenza e quindi i fondi sono stati espesi bene perché bisognava restituirla alla comunità. Nuovo assetto organizzativo per l'Azu di Teramo, presentate anche nuove iniziative finalizzate ad un processo di spending review. Oggi si è riunito per la prima volta il consiglio di amministrazione dell'azienda per il direttore allo studio di Teramo con il nuovo direttore, l'architetto Sorgi. Abbiamo presentato una serie di iniziative di riduzione della spesa a favore degli studenti. In primis l'elemento più importante che va riferito è che la sede dell'azienda si trasferirà nel campus di Costa Sant'Agostino dall'attuale sede di Via Delfico e questo ci consentirà un risparmio sostanzioso. Abbiamo immaginato poi di destinare ulteriori risorse che deriveranno dalla dismissione dell'auto di servizio sempre agli studenti e nello specifico abbiamo pensato di dare delle borse lavoro a studenti che verranno occupati all'interno delle strutture del campus di Costa Sant'Agostino nello specifico negli sportelli del front office dell'azienda. Quindi tutte queste iniziative credo che siano meritorie, vanno nel senso di contenere la spesa e sono state deliberate nel consiglio di poco fa. Tutta la prima amministrazione di questo consiglio è dovuta alla spending review quindi alla riduzione delle spese e dei costi che sostiene l'azienda nella sua attività. Sarà una semplificazione dell'operato dell'attività, della struttura e conseguentemente ci potremo più rivolgere a attività di progettazione e di idee nei confronti dei servizi che potremo prestare agli studenti universitari. Oltre a questo la spending review è dovuta anche alla riduzione dei costi per la rottamazione dell'auto l'idea poi è di andare alla prossima consiglia di amministrazione che riguarderà invece più tutto quanto la governance quindi il modello organizzativo che la rivolgeremo appunto sempre più al tipo di progettazione e attività per prestare servizi nei confronti degli studenti. Anche Chieti partecipa alla campagna nazionale sulla raccolta dei rifiuti e sul riciclo i numeri descrivono una realtà positiva con un comune virtuoso. Il comune di Chieti è prima in Abruzzo, superato da circa un mese la città di Teramo si attesta a 4,2 kg di RAE prodotti per abitante anno e la media è intorno a 3,4 kg. Io penso sia interessante sensibilizzare sempre maggiormente la cittadinanza con questi seminari informativi e formativi per sicuramente nel tempo salvaguardare l'ambiente che ci circonda. Partendo proprio dai più piccini, dal Tatro Marruccino incontreremo 150 bambini delle quinte elementari per insegnare loro con un artista, il rapper Blebla, con una canzone, una musica insegnerà ai più piccini come gestire una migliore raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti stessi. Domani si concluderà, la due giorni, con un altro convegno un full immersion di 5 ore dove verrà trattato soprattutto l'accordo ANCI-CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi nella quale giornata verrà trattato un argomento interessantissimo la Tari per partire dalla Tari tradizionale, quella che abbiamo oggi ad una tariffa puntuale stiamo predisponendo il nuovo bando, il nuovo appalto di raccolta differenziata l'avviso uscirà subito dopo l'estate perché per fine anno dobbiamo affidare il nuovo servizio per i prossimi sette anni anche per quanto riguarda l'argomento Tari quindi la parte del tributo vero e proprio si sta studiando per arrivare a una tariffa puntuale cioè chi produce di più, rifiuto, deve pagare di più E passiamo alla pagina sportiva a poche ore separano il Pescara dall'appuntamento di Trapani dove sarà in palio la Serie A l'umore dello spogliatoio nelle parole dell'esperto Gabriele Aldegani Aldegani come si vive una vigilia così importante in uno spogliatoio di una squadra che tra poche ore si giocherà la conquista della Serie A? Con la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter centrare questo obiettivo ma sapendo che ci aspetta ancora una battaglia come dice il mister Oddo bisogna azzerare completamente mentalmente la vittoria dell'andata e andare lì come fosse una partita secca Una partita che vale una stagione i sacrifici di un'intera stagione Rispetto però all'anno scorso vi presenterete al provinciale con questo 2-0 che è sicuramente un risultato importante Ma sarebbe un errore basarsi esclusivamente su questo risultato Noi dobbiamo andare in campo e fare la partita che siamo in grado di fare con le nostre caratteristiche e cercando di conquistare questo sogno che aspetta la città, la società, la squadra, tutti quanti Si parla tanto Gabriele in queste ore dell'aspetto ambientale che rischierete di trovare al provinciale Diceva qualcuno farà molto caldo in terra siciliana ma Pescara è pronto comunque a dare battaglia Ma credo ormai che con questo tipo di partite il giocatore si isola sicuramente loro prepareranno il clima un ambiente caldo, infuocato ma siamo pronti ormai è il secondo anno che disputiamo semifinali e finali abbiamo trovato i campi di campi caldi dobbiamo stare solo tranquilli e sereni e fare ciò che sappiamo fare E a Trapani ci saranno oltre 400 tifosi del Pescara comunque? Beh innanzitutto c'è da ringraziarli per lo spettacolo che ci hanno regalato nella finale d'andata che è stata un'emozione incredibile e non si sono smentiti a Trapani verranno in tanti purtroppo i posti sono quelli che sono E grazie all'intermediazione del prefetto di Pescara Francesco Provolo e a fronte della richiesta inoltrata alla Pescara Calcio da parte del sindaco Marco Alessandrini e dell'assessorato allo sport sarà possibile vedere la finale di Trapani Pescara in piazza della rinascita giovedì 9 giugno su un maxischermo che verrà allestito per l'occasione una scelta dettata in primis da ragione di ordine pubblico ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini i biglietti per Trapani sono stati tutti venduti facendo sfumare per tantissimi tifosi e cittadini la legittima possibilità di vivere questo momento vicino il più possibile alla nostra squadra noi abbiamo voluto fare in modo che la partita fosse il più partecipata possibile rispondendo a un'esigenza di tutela dell'ordine pubblico oltre che al desiderio di vedere alti i colori biancazzurri giovedì sera e nel corso della trasmissione replay di ieri sera è intervenuto l'indimenticato fuoriclasse brasiliano del Pescara Leo Junior ascoltiamo un estratto del suo intervento in videochiamata certamente è una cosa bellissima soprattutto perché da un po' di tempo che la città non ce l'ha la sua squadra in Serie A e questo fa un piacere non solo ai cacciatori non solo la società ma soprattutto ai tifosi che sono loro che hanno sostenuto di quello che ho letto di quello che so la squadra dalla prima giornata fino adesso Avresti portato la padula ai campionati europei? Ma guarda, noi abbiamo bisogno nel Flamengo di una punta come la padula che ti garantisce almeno 20 gol a stagione ma lui è già posto per andare a una grossa squadra farà il salto di qualità senza salto quest'anno purtroppo per i tifosi pescarese Senti, cosa ti senti di dire ai tifosi per quest'ultima partita a Trapani che tu seguirai sempre tramite Radio California? Prima è stato tranquilli noi andiamo oltre quello che sappiamo che il calcio ci riserva ogni tanto qualche sorpresa però abbiamo già fatto 75% della strada per arrivare in Serie A E' vero che vuoi anche intonare l'inno del Pescara con la tua banda? Ho chiesto lì a Remo fermare, lui che fa la destra stampa del Pescara lui mi ha mandato già il lino della mia epoca quella viva a Pescara io prenderò le parole farò vedere ai ragazzi poi c'è Rodrigo, mio figlio che parla bellissimo italiano e lui suona anche con noi se Pescara va in Serie A facciamo un registro una registrazione e mandiamo a voi vi abbracciamo Leo grazie, un abbraccio forte un abbraccio Leo grazie e sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli a dirigere il play-out di ritorno di domani sera alla Rechi tra Salerintana e Virtus Lanciano prepartita con alcuni sassolini da togliersi per il tecnico Frentano Primo Maragliulo che ha risposto alle critiche di questi giorni dopo il pesante risultato del match di andata per domani sera torneranno a disposizione Di Francesco e Giandonato fuori causa Ferrari squalificato e Bastola infortunato ascoltiamo ne avevamo parlato anche in settimana la squadra era quella poi c'è questa persona che di fronte a voi che ha sempre accettato di tutto e di più per un periodo si è presi complimenti e per un altro si è prese le critiche giustissime e reputo anche queste giuste nella maniera più assoluta però ribadisco che ci devono essere che ci devono essere ci deve essere sempre equilibrio in tutto come io lo devo dare alla squadra anche gli altri devono essere equilibrati questa persona che è davanti a voi che ha tutti i limiti possibili e immaginabili qualcuno non si deve dimenticare che insieme alla squadra ha fatto 26 punti da quanto è arrivato a 18 partite e che virtualmente la squadra l'ha portata in salvo questo qualcuno non deve neanche dimenticare che qui c'è una società che nessuno ha mai detto che non ha sbagliato però negli errori questa società intanto ha cercato di rimediare e credo che questa società vada solamente lodata per quello che ha fatto Lanciano in questi anni perché 4 anni di serie B a Lanciano sono veramente una cosa molto molto importante e io credo che tuttora nonostante le cose stiano in maniera molto negativa perché sappiamo tutti che al 95% si può retrocedere in serie C io credo che tutti quanti debbano pregare perché questa società rimanga qui a Lanciano e continui a fare calcio però prima di tutto non toccate questi ragazzi perché quello che hanno fatto è qualcosa comunque di straordinario seconda cosa le critiche bisogna farle dicendo le cose come stanno non dicendo stupidaggi bisogna andare con la testa giusta sapendo che sarà difficilissimo ma che comunque dobbiamo dare l'anima in questi 90 minuti poi quello che verrà verrà per quanto riguarda l'atteggiamento tattico sinceramente non vorrei cambiare tutto quello che abbiamo fatto in questi tre mesi presentato oggi in comune a Montesilvano il secondo campus estivo Accademia del Portiere a cura del Pescara Calcio il Pescara guarda anche al futuro oggi viene presentata questa iniziativa qui a Montesilvano l'Accademia del Portiere questo secondo campus proprio dedicato alla ricerca di nuovi portieri per le giovanine del Pescara abbiamo il valido contributo di tutto il settore giovanile dei preparatori portieri di Gabriel Degane della prima squadra e questo si prefigge l'obiettivo di innanzitutto monitorare i ragazzi ma comunque dare la possibilità a tutti di allenarsi con dei preparatori professionisti quando partirà questo campus? allora il campus estivo partirà il 15 giugno il 16, 17 e il 18 faremo sette sedute tre sedute doppie una la mattina del sabato con chiusura pranzo al 20 beach del nostro team manager Andrea Gessa gli allenamenti si svolgeranno al Campi Vestina Zampacorta il nostro obiettivo è quello di fare al massimo 30 ragazzi questo per poter lavorare in maniera più consona con i ragazzi senza fare dei gruppi molto grandi a dedicare un'offerta per i nostri ragazzi per tutti quelli che amano il calcio che amano questa disciplina anche perché è il periodo in cui siamo agli onori della cronaca e siamo alla ribalta nazionale sia per i risultati del calcio al 5 sia per diciamo così i risultati del peschera calcio ci auguriamo che questa possa essere un'iniziativa da implementare nei prossimi anni sicuramente è un ottimo servizio per la città anche il sindaco Maragno giovedì sera seguirà crediamo la partita fra Trapani e Pescara Montesilvano calcisticamente e Bianca Azzurra un appuntamento con la storia ma sicuramente credo che tutti gli abruzzesi seguiranno questa partita ci auguriamo che questo possa essere davvero l'inizio di una grande crescita sportiva per tutti i movimenti ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.